prendere un com in discesa è fattibile andiamo a scoprirlo prendere un com nel 2023 è diventata quasi un'impresa ma oggi proveremo a prendere uno o più perché no com in discesa con l'enduro quindi in teoria è già un vantaggio avere l'enduro il problema sarà che i sentieri dato che siamo a novembre saranno pieni di foglie e quindi molto molto difficile andare diciamo giù più secchi perché non vediamo cosa abbiamo sotto però lo scopriremo tra pochi istanti per voi tra una mezz'ora per me quando arriverò in cima a questa salita eterna guardate con l'enduro su asfalto e da dieci chilometri che sto salendo ne mancano quattro non ce la faccio più sono stanco già adesso andiamo eccoci raga all'inizio nel sentiero vediamo com si com no non si sa qui è bello perché già non si vede niente ok allora qua non si vede niente ci sono molte foglie e abbiamo volto a 6 mi comincio a rialto qua qua purtroppo voglio rallentare qui invece giuro ok tante pietre qua a destra ok destra ok qua albero che non vedo mai qui troppe foglie qui troppe foglie qua ho perso tantissimo sbagliato vanni hop qui nel vuoto bello qua non si vede più il sentiero quindi sarà difficile va raga sembra di essere con una pista di ghiaccio perché non si sta in piedi qua tantissimo sbagliato qua tantissime pietre qua tantissimo sbagliato ahhh le sfoglie una due piede ok ultimo sbagliato qui si jumpa qui si stacca invece ok 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 guarda 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 dovrebbe rimollarla di più dovrebbe essere l'acqua ghiaccio orco o cane non aspettate sopra la pietra di scelta qui è brutto destra ok qui è da guidare tecnico guardate che roba tante tante pietre ok e qua si spinge fa tutta vai 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 chicane qua è bello scassato qui si droppa wow quasi arrivati io sto perdendo ok dai ultimo pezzo ok 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 macchine ok eccoci raga siamo arrivati a casa ora vi farò vedere se ho preso dei com o no allora la discesa si chiamava la prima musrai nero e attenzione signori e signore ho preso il com 2 minuti e 32 secondi contro il secondo che è a 3 minuti quindi direi ok un buon margine anche e invece nella seconda discesa che si chiama pal massa musrai ho fatto il secondo tempo purtroppo perché mancava davvero poco al com ci ho messo 2 minuti e 1 contro il primo classificato 1 minuto e 58 mancava veramente poco però dai ci accontentiamo per questa volta andremo sicuramente a riprovare a riprendere il secondo com il video finisce qui se ti è piaciuto ricordati di lasciare un mi piace iscriverti al canale e ci vediamo al prossimo video grazie grazie grazie